Ciao ragazzi, finalmente siamo qua per la nuova appuntata. Questa è una puntata che facciamo a serie, in modo da raccontare i vari giorni delle mie vacanze con i miei figli, che potete vedere Marco e Chiara, eccoli qua, ci stanno salutando, ok. Siamo a Palinuro, Palinuro è un paesino di Salerno, ovviamente a Reggio Calabria. A Palinuro hanno scelto loro questo posto, sto in un'area di sosta che si chiama, e aspetta fammi prendere il foglietto perché sono talmente concentrato, si chiama Sosta Camper Milagro a Palinuro. Sono molto simpatici, sono due gemelli che gestiscono questa area di sosta, e sta a circa poco meno di 100 metri dal mare, molto bello sono andato a vederlo, acqua splendida, trasparenti, mezza spiaggia e mezzo scoglioso. Giusto bimbi? Dico bene? Sì. Ok. Allora di questa area, adesso io sto in un posto di attesa di una nuova postazione, perché sono arrivato alle 2, dopo 6 ore di viaggio, perché purtroppo viaggio lentamente sui 90, 100 all'ora, non di più non ce la facendo. C'era molto traffico nel tratto della parte di circa 5-6 chilometri dal petaggio, e dopo il petaggio per andare a Reggio Calabria. Ovviamente del resto andava bene, c'erano molte strade, corsie che si restringevano, si allargavano per lavori di asfaltamento. E quindi ovviamente come tutti sanno che la strada di Reggio Calabria è molto lenta, ma di natura, chiamiamolo così. Adesso io fra poco vado a cambiare posto, un posto apposta dove io posso stare per 10 giorni. Quindi ovviamente questa appuntata di Palinuro con i miei figli lo racconterò con varie piccole appuntate, perché 10 giorni sarebbe come raccontare la Divina Commedia, sarebbe assurdo anche seguirlo ore e ore e ore. Quindi faccio varie appuntate, piccoli rassuntini, vari pezzettoni, vi faccio vedere anche dove ho messo il camper, una visione intorno al mio camper e a vedere anche il mare. e raccontare a tanta cosa. Adesso stiamo qui seduti un po' sotto il sole, ecco qua i miei bimbi, ecco qua i miei bimbi, li potete vedere i miei bimbi, la telecamera non funziona, ecco questa è mia figlia, Chiara, e poi c'è anche il piccolo Marco che sta qua, che sta leggendo il libro. Come dicevo io, risistiamo la telecamera per me, come dicevo, conteneremo dopo. Quindi ci vediamo a fra poco, dopo aver sistemato il camper, ha lasciato la corrente perché sono quasi tre ore che sto qui senza corrente, l'acqua ha cominciato a perdere l'effetto del fresco, abbiamo bevuto una Coca Cola ma non è che c'era voglia, ma era l'unica che era fresca. ovviamente speriamo a breve perché il proprietario, un camperista mi ha detto mi faccio una doccia e poi vado via. E questo è tutto. Ciao ciao, a fra poco, alla prossima storia. Eccomi qua, questo è il posto provvisorio, si vede che anche a mezzo inclinato, ci sono i bimbi e io sto aspettando la nuova postazione per stare 10 giorni. Questa è l'area di sosta, si vedono molti camper intorno a me, molti camper. Questa è la prima fila, poi c'è anche il tre filo dopo, c'è anche scarico e carico acqua e bucì. Ci sono dei piccoli banni qui in fondo, che adesso vi farò vedere avvicinando la telecamera, ecco questi sono i banni e tutto quanto. ritornando alla posizione reale. Questo è il posto temporaneo che sto da tre ore. Fra poco devo spostarlo e mettere una piazzola migliore. Ciao ciao. Buongiorno, oggi è il secondo giorno, ci siamo appena svegliati un po' tardi, stiamo bevendo solamente tè perché ieri ci siamo mangiati di tutto, pasticcini, pizza, qualche antipasto, eravamo felici per festeggiare il nostro primo giorno di vacanza, dopo ore e ore di viaggio, ecco qui io sto preparando il mio tè. I bimbi sono qui un po' mezzo addormentati e se vogliono manco essere ripresi e giustamente sono un po' stanchi, come sempre, siamo salati a riotto, svegliati a riotto e va benissimo. Adesso noi beviamo tè e poi andiamo al mare. Farò la ripresa della passeggiata che porta al mare, così potete vedere il mare mezzo scoglioso, mezza sappia, come abbiamo visto ieri. e così spero che ti fa piacere questo secondo giorno. Ovviamente non abbiamo programmi perché sto ancora dormendo, perché stanchezza, viaggio, si sta mare qui, si sta mare là. Il posto non è male, ripeto, vi farò anche delle riprese della postazione, dove so io adesso, nuovo posto, un po' leggermente inclinato, però è meglio di prima che era proprio, proprio sembra stare proprio nello scivolo di qualche gioco, parco dei giochi dei bambini. E stanotte non ho sentito neanche tanto, tanto, tanto freddo, poco, poco. Meno male, con fronte d'Albinia che abbiamo sentito freddo, loro si sono messi pure la felpa pesantissima. Invece oggi si sta bene, si sta tranquilli, molti vengono, molti vanno via, molti arrivano, infinitissimi modelli di camper van, furgonato, semi-integrale, ovviamente, questa è la cosa che voi sapete meglio di me. Niente, e con questo pezzo io farò una piccola interruzione perché vi farò delle riprese dopo, quando andremo a me. A fra poco. ecco i miei bimbi, guarda che capelli gritti che c'è Marco Lino, ma che è toccato la corrente oggi? questa è mia chiaretta, guarda com'è bella. E questo è tutto il panorama che sta davanti al camper. Ovviamente prima c'erano due camper, sono andati via cinque secondi fa, uno sta montando, ovviamente non disturbo, e questo è il mio posto. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.